cos'è 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 ragazzi buongiorno a tutti ragazzi dopo pasqua ripartono le reaction finalmente ieri su twitch in pausa franzo che ricordo essere la pausa pranzo su twitch con me per vederci gli highlights insieme della giornata è stato fatto un sondaggio la partita scelta è philadelphia 76ers contro boston celtics andiamo alla cieca e vediamo cosa è successo ok ragazzi mi sono messo gli occhiali se no era veramente una reaction alla cieca ma proprio alla cieca nel vero senso della parola si inizia si inizia subito con i due punti di mbid dal post e con campo transizione offensiva e bensì mosca arma la mano di danny green partenza forte di philadelphia allora parliamo un secondo di queste due squadre perché se da un lato c'è philadelphia che da inizio stagione che viaggia assai assai fluidamente mentre qua gioco da quattro punti di marco smart ma che movimento che movimento mbid porta a scuola timelord comunque se da una parte c'è philadelphia che da inizio anno viaggia abbastanza fluida verso le alte vette della eastern conference dall'altra parte ci sono i boston celtics che devono fare i conti con una stagione veramente disastrosa finora o perlomeno ben sotto le attese qua mbid porta a scuola tutti facile con luke cornett oggettivamente che però dall'altra parte mette la tripla allora philadelphia parliamo un po di philadelphia perché ritornando un po indietro nel tempo mercato ottimale da parte di moray l'arrivo di doc rivers è servito a responsabilizzare le stelle grande stagione di tobias harris da di fatto secondo violino offensivo della squadra perché ben simmons da quel punto di vista ha fatto più di un passo indietro date anche le scarse opzioni offensive dello stesso ben simmons e poi gli arrivi di set curry drenny green ma anche dello stesso dwight howard che qua difende bene su tatum che però però arriva lo stesso al ferro qua difesa dei boston celtics circuit shot di simmons che canestro di ben simmons è bastato dire che non fosse più la seconda opzione offensiva e ha tirato fuori il coniglio dal cilindro dall'altra parte i boston celtics in netta difficoltà hanno puntato forte su un qualche giocatore in trade deadline a inizio vucevic dopodiché pressioni per drummond chiaramente non sono considerata ad oggi una possibile contender per il titolo quindi dry il drummond della situazione ha scelto la west coast ha scelto i lakers però ragazzi questo qua illegale come fa due metri e 13 120 chili è illegale e danny green è tornato un cecchino saranno contenti ragazzi tifosi lakers di questo di questa stagione spettacolare di danny green dal perimetro ancora infallibile dall'altra parte taco fall in campo addirittura taco fall spolverato dalla panchina a metà del secondo quarto e qua taco embid non può fare nulla nemmeno lui contro l'altezza di taco fall è pazzesco dall'altra parte tobai e saris ribadisco grandissima stagione bella giocata bella giocata di set curry e ben simmons questa chiaramente disegnata mamma mia ottima giocata mentre kemba walker finalmente batte un colpo c'è ancora in campo taco fall incredibile ragazzi poi andiamo avanti inizio terzo periodo 59 a 46 più 13 più 15 filadelfia che in questo momento sta agevolmente comandando la partita speriamo insomma che ci possa essere una sorta di rimonta boston per poter dire di avere una partita anche oggi mentre taco ancora in campo voglio vedere minutaggio box corra di taco fall ragazzi effettivamente contro un giocatore come embid magari sotto canestro può far qualcosina ma insomma vabbè lasciamo perdere i celtics rientrano sul meno 12 ancora palla in mano per jason tatum bellissimo movimento e poi fluidissimo al ferro fluidissimo al ferro dall'altra parte però tobias harris fisicamente è veramente tosto per essere un'ala piccola filadelfia squadra veramente molto molto alta volendo ancora boston ancora tatum dall'arco l'ultimo a mollare dei suoi però filadelfia vola vola sul più 20 sulla fine del terzo periodo insomma filadelfia in totale controllo mi sa che oggi non abbiamo una partita non un bel rientro qua in campo anche romeo langford quindi insomma siamo abbastanza tendenti al garbage time e anche cork mass in uscita dal blocco di dwight howard insomma che dire boston sta rischiando boston sta rischiando perché insomma è lì nel limbo nella terra di mezzo di questa easter conference pazza è vero che vincendo 3 4 partite di fila può trovarsi miracolosamente quarta o quinta ad est ma al momento è lì che si sta giocando l'accesso diretto ai playoff quindi sesto settimo posto con altre squadre qua in bid di potenza joel ancora gran difesa di filadelfia che è una delle migliori difese dell'nba e poi con questo simmons in contropiede campo aperto è francamente infermabile certo un peccato che nella stagione in cui stai andando divinamente ci siano i brooklyn nets che si prendono chiunque sia disponibile sul mercato per fare il super team della situazione ancora tatum ancora tatum non molla ma filadelfia sul più sedio cos'è 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 ragazzi 2 e 13 120 chili fa uno step back di quel tipo mamma mia joel mbid è tornato è tornato ed ora ha 20 partite ragazzi per confermare la sua candidatura a favorito per la mvp ragazzi al momento gli occhi c'è un punticino avanti ma mbid causa infortunio è calato ragazzi ma qua ho visto due tre giocate in questa partita di mbid che nessun altro a maggior ragione centro nell'nba può fare qua benny green ancora il cecchino e insomma c'è in campo anche nesmith quindi possiamo dare per finita la partita che dire ragazzi allora non abbiamo avuto una partita filadelfia in controllo dall'inizio 106 a 96 la preta finisce più 10 per la banda di doc rivers e questo signore qui e questo signore qui vediamo un attimo il box score 20 di jason tatum 14 di kemba 14 smart 17 di jalen brown kemba walker continua a prendersi troppi tiri ragazzi dalla panchina praticamente nulla per i boston celtics con solamente sei punti di luke cornett con due su tre dall'arco si è bloccata credo la connessione quindi non posso andare a vedermi eccolo qua il box score dei filadelfia 26ers 35 35 di joel mbid 17 di danny green con 5 su 6 dall'arco tifosi lakers dove siete dove siete 10 per tobias harris 12 di ben simons dalla panchina 10 di furcancor kmaz però insomma altra ottima prestazione dei filadelfia 76ers che quindi vincono contro i boston celtic che ha 16 su 20 dalla lunetta quindi insomma è andato in lunetta praticamente sempre in questa partita allora sono tornate le reaction questo non vuol dire che si fermi la pausa franzo e ci vediamo per chi vorrà dopo le 13 su twitch per vedere anche tutte le altre partite della nottata insieme e commentarle insieme filadelfia 76ers che quindi vincono contro i boston celtics record 35 16 per filadelfia dall'altra parte 25 e 25 per i boston celtics staremo a vedere da qui a fine stagione cosa succederà 22 partite alla fine per i celtics bisogna assolutamente che uno strappo prima o poi per assicurarsi il posto playoff senza arrivare in volata col rischio di andare ai play in giovani meno giovani buona giornata buona scuola finalmente zona arancione noi ci vediamo in pausa franzo un saluto il franzo grazie a tutti